ciao a tutti avete visto lo scorso video sulla fermentazione bene ora parleremo del lato scuro delle conserve fatte in casa scherzi a parte parleremo del botulino un batterio molto pericoloso se non si prendono le giuste precauzioni ti spiegherò tutto quello che c'è da sapere basandomi sui dati ufficiali dell'ufficio federale della sanità pubblica della confederazione svizzera e se vuoi approfondire in descrizione ti lascio il link piccolo spoiler le verdure fermentate correttamente sono esenti da botulino ma cos'è il botulino il botulino è un batterio che in condizioni favorevoli produce una tossina che provoca un'intossicazione anche grave il botulismo anche una piccola quantità di questo veleno può essere molto pericolosa e nei casi più gravi portare addirittura alla morte il batterio del botulismo è molto diffuso in natura lo troviamo sul terreno nella polvere nei fondali di laghi e di mari nell'intestino di alcuni animali e in particolare di alcuni pesci e può sopravvivere a lungo sotto forma di spore molto resistenti queste spore possono contaminare soprattutto alimenti a bassa acidità conservati in condizioni anaerobiche e cioè senza ossigeno come le conserve fatte in casa dunque il botulino per potersi sviluppare ha bisogno di un ambiente privo di aria e con una temperatura che non sia né troppo bassa né troppo alta quando le condizioni non sono ideali il botulino si protegge creando una specie di corazza definita spore che sono resistenti alle basse temperature alle alte temperature e ai disinfettanti solo quando la temperatura sarà ideale uscirà dal suo guscio e inizierà a moltiplicarsi producendo appunto una tossina molto potente questa tossina attacca direttamente il nostro sistema nervoso causando gravi problemi ci sono diversi modi in cui si può contrarre il botulismo ma quello che interessa a noi è anche purtroppo il più comune il botulismo alimentare succede quando mangiamo cibi non conservati correttamente come le conserve fatte in casa che non sono state acidificate o riscaldate a sufficienza questi cibi possono contenere la tossina del botulino che causa l'intossicazione è importante sottolineare che i cibi industriali sono generalmente sicuri grazie ai rigidi controlli igienici i sintomi possono variare ma spesso includono difficoltà ad eglutire e a parlare visione doppia o offuscata debolezza muscolare che può peggiorare e difficoltà respiratorie il tempo che passa dall'ingestione della tossina all'apparizione dei sintomi chiamato periodo di incubazione e generalmente compreso tra le 12 ore e le 72 ore in svizzera e se non sbaglio anche in italia non esiste un vaccino contro il botulismo come invece per gli animali ma possiamo proteggerci seguendo questi semplici consigli se una scatola di latta o un vasetto e rigonfio buttalo via senza aprirlo controlla sempre la data di scadenza dei prodotti confezionati e conservali alla temperatura indicata le neurotossine butoliniche sono inodore e in sapore ma è comunque sconsigliato consumare un alimento che ha un aspetto un odore e un sapore strano e per le conserve fatte in casa bisogna prestare grande attenzione all'igiene lavarsi accuratamente le mani con acqua calda e sapone pulire e disinfettare tutte le superfici di lavoro gli utensili i contenitori indossare un grembiule pulito e raccogliere i capelli tenere lontani gli insetti logicamente e gli animali domestici dalla zona di preparazione utilizzare frutta e verdura fresca sana e di buona qualità lavarla accuratamente sotto l'acqua corrente cuocere gli alimenti alla temperatura e per il tempo indicato nelle ricette aggiungere aceto o succo di limone per acidificare gli alimenti inibendo la proliferazione batterica utilizzare barattoli e vasetti puliti sterilizzati e perfettamente asciutti chiudere ermeticamente barattoli assicurandosi che non ci siano infiltrazioni d'aria sottoporre i barattoli chiusi a un processo di sterilizzazione in acqua conservare le conserve pronte in un luogo fresco buio e asciutto e controllare periodicamente i barattoli per verificare eventuali alterazioni se pensi di aver mangiato un alimento contaminato e ai sintomi come difficoltà a deglutire visione doppia debolezza muscolare rivolgiti immediatamente al medico ma come si eliminano le spore di botulino e le tossine le spore del batterio botulino sono molto resistenti e vengono eliminate soltanto con un trattamento ad elevate temperature come quello dell'autoclave a 121 gradi centigradi per 60 minuti dunque per le conserve fatte in casa potrebbe andar bene una pentola a pressione a patto che se arrivi fino a 121 gradi e si riesca a mantenere questa temperatura per 60 minuti anche la tossina prodotta dal botulino ha paura del calore infatti durante la cottura viene distrutta in pochi secondi se si raggiungono i 100 gradi centigradi mentre viene distrutta in 15 minuti se si raggiungono gli 85 gradi centigradi un altro trattamento che distrugge la tossina e che impedisce lo sviluppo del batterio è l'acidità sotto il valore 4 del ph quindi fermentare correttamente le verdure le rende totalmente sicure vi consiglio vivamente di procurarvi un misuratore del ph che costano sempre meno grazie a quello possiamo avere la certezza assoluta di avere la giusta acidità in cui il botulino non potrà proliferare ci sono anche preparazioni con elevati quantitativi di zucchero e di sale che sono sicure dal botulino ma bisogna seguire alla lettera le ricette come per esempio la marmellata che non bisogna scendere sotto il 50 per cento di zucchero proprio per evitare questi tipi di problemi potresti pensare che in passato ci si ammalasse meno di botulismo ma la realtà è più complessa questa pericolosissima intossicazione alimentare affligge l'umanità da secoli e in passato i casi erano addirittura più frequenti prima della rivoluzione della refrigerazione e delle moderne tecniche di conservazione gli alimenti erano un terreno fertile per i batteri produttori di questa potente tossina la mancanza di conoscenze scientifiche nella microbiologia e gli standard igienici meno rigorosi rendevano le intossicazioni alimentari un rischio più elevato in conclusione preparare le conserve in casa può essere un'esperienza gratificante ma richiede attenzione e precisione seguendo queste semplici regole potrai gustare deliziose conserve fatte con ingredienti freschi e genuini in tutta sicurezza e se volete stare ancora più sereni fermentate le vostre verdure grazie alla fermentazione purché sia eseguita correttamente il botulino non potrà svilupparsi qui vi lascio un video tutorial sulla fermentazione e se non volete fermentare potete anche congelare i vostri peperoncini con cui farci delle salse facendoli cuocere e acidificandoli nel modo corretto e qui vi lascio un altro video tutorial e infine se volete fare un olio piccante sicuro senza correre il rischio del botulino e senza rinunciare al gusto al sapore del peperoncino vi lascio quest'altro video tutorial ed eccoci giunti alla fine di questo video come sempre se avete domande lo spazio sotto è tutto vostro grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti